Radio Radicali, siamo con Bobo Craxi per ricordare la figura di Gianni De Michelis. Oggi si sta svolgendo qui alla Sala della Regina un importante convegno organizzato da Renato Brunetta che vuole rendere onore e merito a uno che è stato uno dei più grossi statisti italiani degli anni 80 e dell'inizio degli anni 90. Allora, lei si aspettava una maggiore attenzione nel ricordo di Gianni De Michelis dopo la sua scomparsa eppure De Michelis è stato tanto importante a caratterizzare il dibattito economico e politico degli anni 80, tutto fino al 1989. Sì, in realtà c'è stata, nel senso che sebbene cristallizzato in un periodo della storia che sta alle nostre spalle tuttavia però che è coinciso anche con elementi decisivi, su scelte decisive nel nostro paese così come ha coinciso con la fine drammatica della Prima Repubblica. Quindi, no, verso Gianni c'è stata una maggioranza di espressioni generose, giuste che hanno sottolineato appunto, come hai detto tu, la grandezza, la statura di questo uomo politico e poi c'è stato naturalmente anche qualche scivolone caricaturale relegato alle passioni private che però non hanno nulla a che vedere con la vicenda politica. cioè qui si è trattato di una classe dirigente, quella dei socialisti degli anni 80 che ha costruito un pezzo fondamentale della svolta della modernità del nostro paese in quegli anni e più si aggiunge al fatto che De Michelis per la sua impronta, il suo impulso politico intellettuale era molto legato al pragmatismo delle scelte dell'epoca, sia che si trattasse di partecipazioni statali che si trattasse di mondo del lavoro, quando feceva il ministro del lavoro e il ministro degli esteri ha attraversato un periodo lungo e decisivo. Maastricht porta la firma di Giulio Andreotti e la vice firma di Gianni De Michelis. Ecco, quanto fu importante De Michelis nella battaglia sulla scala mobile a fianco al suo padre? Battaglia che voi vinceste contro il partito comunista, fu una delle ultime battaglie di Enrico Berlinguer per fermare questa riforma che è stata epocale? No, fu una battaglia contro l'inflazione, non è che fu una battaglia contro il comunismo. Però, insomma, ricordiamo che ci arriva un referendum, uno scontro all'interno della sinistra molto forte. Sì, perché solo l'ottosità che tra l'altro vedo viene onorata in questi giorni, nonostante sia anche giusto onorare la figura di Enrico Berlinguer, che è stato tante cose altro rispetto al clamoroso errore sulla scala mobile, che non si trattava null'altro che una manovra di politica economica, che congelando i salari consentiva, congelando l'inflazione, riducendo i salari, tuttavia consentiva al potere d'acquisto della classe lavoratrice di poter essere rafforzato. Infatti così avvenne. Cioè fu uno dei pochi casi in cui una dottrina economica effettivamente dà i suoi benefici. Siccome siamo spesso circondati da soloni dell'economia in un momento di globalizzazione, allora quella fu una classica manovra, diciamo, social-democratica, dove non si colpì, a differenza di quello che appunto poi il PC mise in campo con la sua propaganda, che addirittura fu sconfitta nel referendum, quindi fu catastrofica due volte, perché poi il referendum che fecero gli italiani compresero bene che la manovra ebbe dei risultati importanti. Sì, certo, Gianni che era molto giovane, allora il suo piglio, la sua forza, ed era anche ben aiutato. Uno dei, diciamo, degli intellettuali economisti dell'epoca di area Cislina, Tarantelli, poi fu ucciso. L'assassinato l'85 tra le Brigade Rosse. Non dimentichiamo. Fu uno dei, diciamo, degli amanuensi del decreto di San Valentino. E così come tanti altri, lo stesso, diversi economisti furono colpiti da Empoli, Gino Giugni, insomma, per inquadrare, diciamo, il contesto politico-sociale in cui noi vivevamo. Gino De Micheli si è stato, indubbiamente, ricordato come ministro, come uomo di governo, soprattutto, che era una delle sue maggiori qualità, cioè la maggiori qualità della decisione, la qualità dell'intuizione e della lungimiranza. Poi successivamente, colpito da vanni pulite, non si perse mai d'animo, insomma, insieme a noi ricostruimmo una formazione socialista, portammo nuovamente Gianni al Parlamento europeo, che per me fu una grandissima soddisfazione, visto che restituivamo noi della giovane classe dirigente di quello che era, avevamo chiamato, rifacendo più il verso a Blair, che non, diciamo, la nuova opinione, avevamo chiamato un nuovo Opsi, strezzando un po' l'occhiolino a New Labour, e andammo in Parlamento, facendo un accordo con la Casa della Libertà, e Berlusconi pose il veto su lui e su Martelli. E quindi, quando io andai da Gianni, gli disse, vabbè, ma Gianni, venite voi, di fatto è come se sconfessasse tutta l'operazione politica. No, dice tu, e altri, da cui c'era anche la figlia di Sergio Moroni, assolutamente dovete entrare in Parlamento, e questo è fondamentale per noi, piantare nuovamente la bandiera. E dopo due anni, con il nostro lavoro, restituimmo, diciamo così, tra virgolette, il piacere, sostenendolo al Parlamento europeo, e lui ritrovava, e ritrovava una sua nuova vita politica, pur sapendo che eravamo, drammaticamente provenivamo da una sconfitta. L'inizio dell'intesa con suo padre fu semplice, diciamo, De Michelis veniva dall'area lombardiana del Partito Socialista italiano. Loro si sono ritrovati subito in questa visione comune, perché sappiamo che De Michelis, agli inizi e ai primordi del suo impegno politico, che so che era mistino, poi addirittura passò nel partito radicale. Era monarchico. Era monarchico. Sì, vabbè, ma ha 15 anni era monarchico. No, lui proveniva dalla stagione dei movimenti, diciamo, dei movimenti universitari giovanili, quindi lui fece anche il presidente dell'Ugi, tra l'altro in cui militò Marco Pannella, e precedentemente mio padre, e già nella generazione successiva. No, è che quella generazione coincise, diciamo, una svolta politica anche con una svolta di carattere generazionale. Cioè l'esperienza del primo centro-sinistra aveva lasciato degli strascichi nel rapporto che si consumò tra i socialisti e la democrazia cristiana. Quindi non si contestava in sé l'alleanza. Cioè i lombardiani, pur essendo, provenendo tra l'altro da una matrice autonomista comune, ai nenniani, anzi addirittura gli autonomisti, i lombardiani vennero addirittura prima di quegli nenniani, cioè la loro teoria era che il processo dell'alternativa comunque passava attraverso una logica di compromesso. E in ogni caso, quella generazione, quella generazione, che naturalmente voleva in modo determinante una svolta riformista del Paese, innanzitutto, coglieva anche il fatto che si era consumato, nel rapporto con l'ADC, c'era stata un'umiliazione nei confronti dei socialisti. E quindi si voleva una svolta autonomista, un ritorno, diciamo, ad un rapporto paritario con la democrazia cristiana, pur non tralasciando l'obiettivo strategico dell'alternativa di sinistra, che è diverso, che era una cosa diversa dall'idea del frontismo. L'alternativa di sinistra era, mutati smutandi se pensando all'oggi, era l'immaginare una prospettiva della democrazia italiana in cui i conservatori, quindi i cattolici democratici, svolgevano la funzione della destra e nella sinistra regolati i conti, diciamo, della storia e soprattutto venuta meno la, diciamo così, il legame indissolubile fra il comunismo italiano e quello sovietico, cosa che non avvenne. I comunisti italiani sono usciti dalla stagione del comunismo un minuto dopo, non un minuto prima che cadesse il muro di Berlina. Qui sta la contraddizione. I socialisti lombardiani, per ragioni, diciamo, decisero, tra l'altro, appunto, di farsi guidare da un autonomista e poi la storia si è incaricata, diciamo, di sviluppare poi nel tempo e di consolidare alleanza fra di loro e soprattutto riconoscere una leadership unica ma dentro un gruppo dirigente molto, molto solido. Un'ultima cosa che è stata anche trattata qui nel convegno. Allora, lui, di Michelis, è stato sempre attaccato per questa sua passione per le discoteche. Tra l'altro, scrisse anche un bel libro che oggi viene molto quotato che si intitola Stasera dove andiamo a ballare? Punto interrogativo. Cioè, su Ebbeia ha delle quotazioni altissime questo libro e viene considerato come una delle rarità. Allora, com'è considerato questi attacchi nei confronti dei Michelis e questa cosa che veniva considerata quasi come un peccato politico, come se fosse quasi un reato. Come l'ha trovata questa cosa? Fatta oggi? Stucchevole. Fatta allora? Stucchevole anche allora perché veniva fatta magari da, diciamo, da giornalisti che provenivano dalla medesima stagione culturale che era quella del 68. Infatti Gianni era giovane negli anni 60. Cioè, era una forma di libertà. Al di là del fatto delle libertà personali non dovrebbero mai essere messe in discussione. Ma era francamente abbastanza ridicolo che si contestasse a un nuovo pubblico di fare delle cose che in genere fanno tutti. Poi uno può anche giudicare, diciamo, sulla bontà culturale della scelta della discoteca. Poi eravamo veramente negli anni della dance. Nell'edonismo reganiano, come dice. Sì, vabbè, però era veramente una forma bigotta, conservatrice, insopportabile, diciamo, di censura. Tanto più che, qualcuno l'ha ricordato questa sera, lui lo faceva non per ragioni di esibizionismo, ma lo faceva perché gli piaceva veramente. Ogni tanto andava in discoteca, adesso onestamente, così come ogni tanto andava a bere al bar qui dietro. In fondo la vita, diciamo, di un politico, avendo poi tra l'altro rinunciato lui all'elemento fondamentale, insomma, nella vita di un uomo che in fondo della famiglia lui ha lasciato la moglie, è rimasto solo a Roma, viveva, era un totus politicus, quindi in realtà la sua vita era veramente legata allo studio, al tema dei problemi e anche alla politica. Ma questo è una cosa che non l'ha mai abbandonato fino all'ultimo. Io, oltre ad aver lavorato, diciamo, con Gianni, lottato insieme a lui nei partiti, a un certo punto c'è stata anche una forma di frequentazione molto molto assidua, provo a immaginare. Insomma, Gianni era uno che amava proprio studiare, leggere, vivere la politica non come passione civile, ma come impegno autentico. Quindi questa storia della discoteca, onestamente, quando viene ritirata fuori, fa anche abbastanza sorridere, a me fa abbastanza sorridere, non mi indigna, ma il fatto che si disegni una vita di un uomo politico perché ha passato qualche serata in discoteca, francamente è stucchevole. C'è chi invece lo fa perché fa vedere che, oppure fa delle cose che fanno come gli altri, i nuovi politici, perché fa vedere che sono cittadini comuni, in realtà cittadini comuni non sono, e anche quelli, non voglio fare polemica, ma insomma, anche quelli che dicevano che non avrebbero mai messo piede su un'automobile vedo che sono circondati da autoblue anche da belle ragazze che vanno in discoteca e fanno la loro bella vita, però con risultati un po' diversi rispetto a quelli di Gianni. Bene, grazie, grazie a Bobo, grazie.